Benvenuti in un nuovo video. Dopo un mese senza mountain bike si torna e vediamo quando mi planeranno in testa gli altri due. Mi vai dritto. Non so. Non so. Per forza ce n'è anche uno a piedi. Grazie. 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 Sbagliato. Grazie. È un po' umido. No ma andava su un casino. si trova è asciutto e andava forte via butta quanto? ah allora si è andata che stiamo a nascosto sento i rumori strani da gomma se voglio un pagliaccio no sleep oggi ah ciao occhio gomma mi arriva un alto si che hai fatto il corso di mountain bike ho visto come hai spinto giù bene no no oh no hello canaloni via questa sì che mi piace ciao ah non ce l'ho fatta questa ho rischiato di più per avanti malissimo mi andavo proprio faccia nella merda che cazzo non è successo a scontare i piattati a scontare a scontare pia non hai visto che ramo che c'era? a scontare mi volevo tenere le braccia a scontare le braccia a scontare le braccia a scontare le braccia a scontare le braccia no ma se è asciutto lo fai è sempre meglio non rischiare no potresti saltare qua a scontare le braccia a scontare le braccia a scontare le braccia mosca ok ok e piedi no muoviti sei un vivolo che ti sei piantato? eh ma devi farlo guarda ragazzi guarda che pericoloso cazzo non passate le pecore guarda che pericoloso guarda che pericoloso guarda che bello queste discese controllate guarda che bello queste discese controllate guarda che bello queste discese controllate